Ciao, buongiorno, ci ritroviamo nel nostro solito post pre-martedì per darci magari qualche informazione in più e darci un tema su quello che andiamo ad affrontare proprio martedì mattina come sempre alle 9.15 insieme nel nostro appuntamento. Oh, di che cosa parleremo domani? Beh, intanto mi piacerebbe un po' ritornare a parlare dei libri, di libri soprattutto visto che l'ultima volta siamo stati insieme e qualcuno di voi insomma mi aveva dato qualche suggerimento da leggere soprattutto su libri che avevano a che fare e parlavano di mistero, di magia, di streghe, di castelli, di luoghi e di posti un pochettino diciamo così fatati. Ad esempio Claudio ce ne aveva suggeriti parecchio, anche il maestro Domenica Guariglia aveva suggerito anche lui un libro da leggere. Ecco, mi piacerebbe continuare un po' su questa scia, no? Per continuare a raccontare questi luoghi che ho visto essere un tema che insomma piaceva a molti e magari anche voi potete raccontarmi i vostri luoghi. Ma logicamente prendendo spunto da alcuni libri della letteratura, della narrativa vecchi ma non solo, anche moderni per poi magari la prossima settimana farvi una recensione proprio di alcuni di questi libri. Io ne ho anche comprato qualcuno quindi insomma sono già lì alla ricerca, sto leggendo e così magari poi ci facciamo un'idea anche delle copertine di tutto il resto. Per cui se vi va, io naturalmente come sempre vi aspetto qui puntuali domani alle 9.15. Ciao, buona giornata, a domani, ciao! Ciao!